le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 4 la storia di pinocchio col grillo parlante dove si vede come i ragazzi cattivi hanno annoia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro vi dirò dunque ragazzi che mentre il povero geppetto era condotto senza sua colpa in prigione quel monello di pinocchio rimasto libero dalle grinfie del carabiniere se la dava a gambe giù attraverso ai campi per far più presto a tornarsene a casa e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi siepi di pruni e fossi pieni d'acqua tale quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori giunto dinanzi a casa trovò l'uscio di strada socchiuso lo spinse entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto si gettò a sedere per terra lasciando andare un gran sospirone di contentezza ma quella contentezza durò poco perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri 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 chi è che mi chiama disse pinocchio tutto impaurito sono io pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su su per il muro dimmi grillo e tu chi sei io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di cent'anni e oggi però questa stanza è mia disse il burattino e se vuoi farmi un vero piacere vattene subito senza nemmeno voltarsi indietro io non me ne andrò di qui rispose il grillo se prima non ti avrò detto una gran verità dimmela e spicciati guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente canta pure grillo mio come ti pare piace ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare e io a dirtela in confidenza di studiare non ho punta voglia e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere l'uccellini di nido povero grullerello ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te chesati grillaccio del malaugurio gridò pinocchio ma il grillo che era paziente e filosofo invece di aversi a male di questa impertinenza continuò con lo stesso tono di voce e se non ti garba di andare a scuola perché non impari almeno un mestiere tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane vuoi che te lo dica replicò pinocchio che cominciava a perdere la pazienza fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio e questo mestiere sarebbe quello di mangiare bere dormire divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo per tua regola disse il grillo parlante con la sua solita calma tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione ma da grillaccio del malaugurio se mi monta la pizza guai a te povero pinocchio mi fai proprio compassione perché ti faccio compassione perché sei un burattino e quel che è peggio perché hai la testa di legno a queste ultime parole pinocchio saltò su tutto infuriato e preso sul banco un martello di legno lo scagliò contro il grillo parlante forse non credeva nemmeno di colpirlo ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri 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 e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete